Ernesto Della Torre, membro della Commissione Sportiva di Bovenio, sappiamo che c'è in atto un progetto dedicato all'e-bike qui a Bovenio. Il discorso delle bici, delle bike è che risulta sfruttare molto bene le nostre risorse, abbiamo tantissimi percorsi, tantissimi sentieri e il discorso della pedalata assistita permette anche a tante persone che non sono allenate di riuscire a sfruttare bene il territorio. Questo territorio è veramente steso a livello di percorsi, di discese e permette la possibilità di fare giri di più ore e quindi diciamo che è un peccato non sfruttarlo sia noi come modo per crescere, per crescere verso degli sport di outdoor che adesso sono penso al massimo del momento dove si esprimano e sia come località che ha delle cose da offrire e le valorizzi al 100%. Non mancano certo i sentieri per fare i bike? No, qua assolutamente, ancora da un sacco di anni puliti dal cai piuttosto che da chi andava con le moto, piuttosto che chi andava a pescare e si muoveva è sempre stato tenuto e curato questo aspetto e penso che anche andare con le biciclette con un giusto modo di porsi non si danneggi neanche la natura e i percorsi, quindi secondo me c'è solo da vedere quanto possiamo riuscire a sfruttarlo e quanto può crescere insieme anche al comune, cioè anche questo movimento delle bike può dare una mano sicuramente al comune a portare a livello turistico e svilupparsi anche lì, dato che parlando al discorso sempre sportivo siamo sempre stati un pochettino secondo me col freno tirato, con l'attenzione su altre cose, questa qua potrebbe essere l'occasione per indirizzarsi e affermarsi anche fuori magari dalla provincia, dalla regione e far conoscere le montagne che ci abbiamo.